Ciao ragazzi e benvenuti su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. E se non l'aveste ancora fatto, vi chiedo di cliccare segui o follow su Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox e di lasciare un commento o una recensione. Bene, oggi abbiamo una bella novità. Finalmente il sito web è finito e potete scaricare la trascrizione gratuita dell'episodio direttamente dal mio sito, italianstorieswithdavide.com. Quindi sul sito trovate la trascrizione, trovate tutte le risorse dei podcast. In questo episodio invece parliamo un po' di politica. Quando all'estero si parla di politica italiana, le prime due cose negative che vengono in mente sono la corruzione e l'instabilità dei governi italiani. Oggi parliamo dell'instabilità e vediamo se è proprio così. Sigla e diamoci da fare! Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Silvio Berlusconi, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Hmm, interessante! Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore Mario Monti, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. No, ma... Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Enrico Letta, che gli ha rassegnato le dimissioni irrevocabili del esecutivo da lui presieduto. Ancora uno! Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Eh, ma basta! Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Paolo Gentiloni, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Dai, questo è l'ultimo! Il Presidente della Repubblica l'ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor avvocato Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Ho detto basta! Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor avvocato Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Oh, finalmente hanno finito! Avete ascoltato le dimissioni di ben sette primi ministri. In italiano il titolo ufficiale è Presidente del Consiglio dei Ministri, o, più semplicemente, Presidente del Consiglio o Premier. Però, dicevamo, sette presidenti dal 2011. Sembrano un po' tanti, vero? Eh, pensate che dal 1945, cioè da quando è nata la Repubblica in Italia, ci sono stati 67 governi in 76 anni. Ogni governo, in teoria, dovrebbe rimanere in carica, remain in office, cinque anni. Dal 1945, solo due presidenti, De Gasperi e Berlusconi, sono riusciti a fare cinque anni consecutivi di governo. Five in a row. Ma hanno dovuto formare un nuovo governo durante il processo. Un solo presidente, ma due o tre o quattro governi nel mezzo. Pensate che dal 94 abbiamo cambiato undici premier e diciassette governi. Quando ho iniziato ad ascoltare qualcosa di politica era l'inizio degli anni 2000. Io ero un ragazzino, non avevo idea di che cosa fosse la politica. Non avevo visto niente prima e non avevo metri di paragone, a benchmark. Non potevo paragonare quella situazione con quelle precedenti. Per cinque anni, ma con un cambio di governo, il primo ministro è stato Silvio Berlusconi. Non condividevo, non mi interessavano le sue idee, ma pensavo che questa fosse la politica. Un governo stabile per anni, anche se non il migliore di tutti. Infatti speravo che ci fosse un nuovo governo più liberal, più innovativo. E finalmente nel 2006 c'era un nuovo governo, ma fatto di moltissimi partiti piccoli. E non durò molto. Dopo meno di due anni, un partito piccolo, con l'1,39% di voti, fece cadere il governo. It brought down the government. Non mi sembrava possibile, ma fu una presa di coscienza per me. It raised my awareness of Italian politics. Quella era la regola, l'abitudine. Il governo lungo i cinque anni era l'eccezione. Ma per capire tutto questo, dobbiamo fare un passo indietro al fascismo, prima della Repubblica. Mussolini ed i fascisti presero il potere nel 1922 e iniziarono una dittatura che durò vent'anni e finì solo nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo gli antifascisti, Mussolini era riuscito a fare tutto questo a causa del sistema politico italiano, che aveva permesso ad un partito di avere tutto il potere a disposizione, senza discutere con gli altri partiti, fino ad eliminarli definitivamente e quindi creare una dittatura con un solo partito. Allora, dopo la sconfitta del fascismo, quando gli italiani decisero di eliminare la monarchia e diventare una repubblica, bisognava scrivere una nuova Costituzione. La dovevano scrivere tutte le forze antifasciste, democristiani e conservatori, liberali e repubblicani, comunisti e socialisti. Divenne un grande compromesso. Ogni forza politica aveva la sua agenda, i suoi obiettivi, ma la cosa più importante era rendere impossibile una nuova dittatura. Gli scrittori della Costituzione decisero di creare un sistema complesso di compromessi, in cui nessuno aveva troppo potere. Per avere il controllo politico era indispensabile, essential, fare alleanze con altri partiti. Per fare delle leggi, la stessa cosa. Compromesso era la parola chiave. Il sistema elettorale di elezione era proporzionale e significa che ogni partito che alle elezioni avesse almeno il 5% poteva entrare in Parlamento. Questo per dare più rappresentanza al popolo italiano. In altre parole, anche una minoranza di cittadini potevano essere rappresentati in Parlamento con il loro partitino, il piccolo partito. Questo sistema era diametralmente opposto al sistema americano o inglese, in cui la tendenza, the trend, era di avere due o tre partiti grandi ed eliminare tutti quelli piccoli. In questo modo, infatti, era più facile garantire la stabilità dei governi. E vi do solo due dati. In Regno Unito ci sono stati 29 governi dal 45. In America, solo 14. In Italia, come detto prima, 67. Molto bene. Nel corso degli anni, il sistema elettorale italiano è cambiato molte volte. Abbiamo creato sistemi più maggioritari, più ibridi a volte, altre volte solo dei gran casini. Chaos. Eppure, il sistema di gestione del potere in Parlamento e nel governo è rimasto praticamente uguale. Questo ha significato compromessi anche con i nuovi sistemi elettorali. Il potere a tutti e a nessuno. Eppure la situazione è apparentemente risolta. Dobbiamo dividere la nostra storia politica in due grandi momenti per capire meglio. Il periodo della democrazia cristiana, chiamata anche il DC, il partito conservatore, ed il periodo più recente, dal 1992 ad oggi. Dal 1946 fino a metà anni Ottanta, la democrazia cristiana ha avuto il potere, è stata al governo. Eppure, circa ogni anno e mezzo, c'era un nuovo governo. Spesso i primi ministri ed i ministri in generale erano gli stessi, come i più famosi Aldo Moro, Giulio Andreotti, Fanfani. Il sistema del compromesso non permetteva loro, non li lasciava, governare da soli. Erano costretti, forced, a fare delle alleanze, delle coalizioni, con altri partiti politici. E questa instabilità ha prodotto molte delle misure di welfare state che abbiamo ancora oggi, grazie alle alleanze con partiti più di sinistra, ma non estremi. I governi cambiavano, è vero, ma l'instabilità era normale, come in altri paesi. avere un partito sempre al governo assicurava stabilità. Ovviamente non tutto era positivo. Per esempio, dover fare compromessi per governare, sempre avendo la maggioranza di governo, portava anche a zone grigie. Molte volte il governo cambiava solo la facciata in superficie. Cambiavano le persone, ma le idee politiche e di progetti rimanevano uguali, in positivo ed in negativo. Un grande esempio di questo è un film classico italiano del regista Francesco Rosi del 1963, Le mani sulla città, Hands over the city. Il film parla di uno scandalo edilizio. a Napoli un palazzo in un quartiere popolare working class cade e muoiono alcune persone. L'imprenditore responsabile del progetto voleva entrare in politica nel governo della città, ma l'opinione pubblica è contraria, è contro. Non vuole che l'imprenditore entri in politica. Eppure alla fine con un cambio di governo riesce ad entrare. L'opinione pubblica è contenta perché c'è un nuovo governo, la tragedia è dimenticata, forgotten, e l'imprenditore può entrare in politica. Lo scrittore Tommasi di Lampedusa nel suo libro più famoso Il gattopardo diceva che in Italia tutto deve cambiare per non cambiare, perché resti uguale. Ma facciamo un salto al 1992. È l'anno di manipulite, clean hands, la maxi inchiesta investigation con cui gli italiani scoprono la corruzione totale nella politica italiana. L'anno prima era finita l'Unione Sovietica e così anche il Partito Comunista italiano. Così anche la democrazia cristiana iniziava a perdere elettori. Era l'inizio dell'instabilità vera e propria. Non c'era più un partito che vinceva sempre le elezioni, ma partiti di destra, sinistra, centro, diversi tra loro, con grandi coalizioni che cambiavano di anno in anno. Prima c'erano diversi governi, ma con la continuità del partito. Dal 92 no. E così arriviamo rapidamente agli ultimi governi e ad una bizzarra situazione. Grottesca potremmo dire. Nel 2018 due partiti politici populisti di destra di Boe, la Lega ed il Movimento 5 Stelle hanno creato un governo. Eppure circa un anno dopo uno dei due partiti, la Lega, ha fatto cadere il governo. Ha tolto la sua fiducia. It's vote of confidence. A quel punto l'altro partito, il Movimento, si è alleato con il partito democratico di centro-sinistra, ma con lo stesso primo ministro di prima, Giuseppe Conte. Si è così creata una situazione assurda in cui un presidente del Consiglio doveva modificare leggi ed idee del governo precedente in cui era lui stesso il presidente. prima di destra e poi un po' di sinistra. Che cos'è più schizofrenico di questo? E ovviamente questo governo è finito a gennaio 2021 quando un piccolissimo partito ha tolto la sua fiducia ed ha fatto cadere il governo di nuovo. Come avete capito la coerenza non è un'abitudine nella politica italiana ma non solo per colpa delle persone dei politici come spesso si pensa è il sistema di procedure burocratiche di governo che crea questa instabilità non solo le persone. Chi certifica la continuità di un sistema di questo tipo sono gli uomini nell'ombra. tutti quei funzionari segretari che non si vedono in televisione che non parlano sui social network ma che vedono diversi governi ed influenzano la politica. Vi ricordate gli audio di inizio puntata? Chi parla è Ugo Zampetti segretario generale del presidente della repubblica. non parla mai ma è uno degli uomini più influenti della politica e così ce ne sono altri che cercano di garantire la stabilità. Vi lascio in descrizione un libro recente che parla di questi personaggi influenti però non lasciatevi ingannare da teorie di cospirazioni in questo caso non esistono c'è solo un sistema politico instabile che cerca stabilità. Voglio però finire con una possibile soluzione. So che non succederà mai ma sarebbe bello che ci fosse. La soluzione è la sfiducia costruttiva una pratica politica usata in altri paesi per esempio in Germania ed in Spagna. In poche parole quando un governo non ha la fiducia del Parlamento la maggioranza bisogna dare la fiducia ad un altro governo subito senza elezioni senza fasi di transizione. In questo modo non ci sono momenti inutili di passaggio da un governo all'altro che è il vero male di questo sistema. Ovviamente penso che sia un'utopia l'Italia è un paese che non ama i cambiamenti soprattutto nella politica. Siamo bravi a criticare i singoli politici o tutta la politica ma non cerchiamo mai le soluzioni i miglioramenti di un sistema complesso e difficile da modificare. Bene ci fermiamo qui ed ora ve lo posso chiedere quanto sono stato noioso oggi? Ho provato a spiegare in breve il problema dell'instabilità in Italia come molti di voi mi hanno chiesto ma è un argomento molto complesso e difficile vorrei però sapere la vostra opinione sull'instabilità italiana e se nel vostro paese la situazione è simile o diversa vi ricordo che trovate la trascrizione di questa puntata sul mio sito dove potete lasciare un commento e vi ricordo anche di seguire le mie pagine facebook e instagram per non perdervi gli aggiornamenti e per esempio la prossima settimana parliamo di letteratura e di una grande poetessa italiana però oggi è tutto ricordate che non è la cultura che fa le persone ma le persone che fanno la cultura e quindi facciamo cultura insieme alla prossima settimana ragazzi ciao